buongiorno a tutti anzi buonanotte visto che è mezzanotte e cinque minuti più o meno però calcoliamo che tra un'ora e tra due ore scarse devo anzi tra tre ore alle tre un'ora indietro quindi sarebbero le undici teoricamente in ogni caso tutina chiamiamola tuta di sergio tacchini quella da benzinaio come l'ha definita una ragazza che mi segue da un po di tempo poi non so se mi sta seguendo ancora o meno comunque perché dobbiamo parlare di moto gp ma prima prima devo chiedere venia perché i criceti del mio cellulare durante la settimana sono velocissimi mi calcono i video di 10 15 minuti in un'ora e mezza anche meno quando arriva il sabato dalle 6 in poi sono lenti come la fame io ho caricato i due video dei miei due pretini alle 7 del mattino di sabato alle 14 15 più o meno avevano caricato dei due il 32 per cento di uno e dell'altro video quindi si sono caricati veramente in una maniera io non so perché al sabato loro devono andare in sciopero durante la settimana devo dire che sono rapidi eccetera addirittura a volte sono delle schegge non faccio in tempo a caricare un video anche abbastanza lungo 10 12 15 minuti un'oretta un'oretta e mezza è già carico ma bando alle ciance ciancio alle bande dobbiamo parlare di moto gp qualifiche di teruel ma sarebbe ancora la pista di aragon quindi partiamo subito con il q1 e vediamo quali sono i piloti che vi partecipano per cercare di andare al q2 e puntare alla pole position allora i piloti che partecipano alcuno sono miller all'asse spargarò binder dovizioso rabà pole spargarò petrucci bagnaia bradley smith e zarco inoltre si sapeva già valentino rossi non corre la yamaha ha deciso di non sostituirlo quindi non ci sarà né lorenzo né ivata quindi c'è solo la moto di vignanes vediamo se cosa combinerà lui è già comunque in attesa al q1 anzi al q2 già promosso non ci sono problemi mentre invece sentivo che per quanto riguarda marquez poi vi racconto com'è andata pare che potrebbe subire una nuova operazione perché sente ancora dolore al braccio ne hanno fatta una ha messo una prima placca la placca non andava bene ne ha messo un'altra più piccola adesso pare che anche questa gli dà dolore eccetera potrebbe farne un'altra gli potrebbero mettere dei chiodi o non si sa che cosa comunque bel calvario per marz giovanissimo tra l'altro anche se a me sta sui testi quando un pilota si fa male è sempre antipatico il male non lo si augura mai a nessuno poi lui mi sta sui testi è un campione che mi sta sui testi un po come hamilton hamilton è un campione ma mi sta sui testi e c'è poco da fare comunque proseguiamo proseguiamo vediamo com'è andata questo q1 perché dopo i primi tentativi abbiamo un jack miller che forse ha ipotecato il primo posto mentre alle sue spalle a tre decimi più o meno c'è una bella bagarre per il secondo posto utile con almeno sei piloti in poco più di cento millesimi la classifica parziale appunto a metà delle qualifiche vede miller al primo posto pure spargarò secondo a lei se spargarò terzo a due millesimi veramente erano lì vicini vicini ma proprio vicinissimi al quarto posto abbiamo dovizioso al quinto zarco al sesto petrucci al settimo bagnaia all'ottavo bradel al nono binder al decimo barabate all'undicesimo smith subito giro pazzesco di paul e spargarò che abbassa di tre decimi il tempo di miller e a sua volta ipoteca un posto in q1 quando manca un solo tentativo per tutti in questa seconda parte di q1 e quando meno te l'aspetti c'è un incredibile ultimo giro di alice spargarò e zarco che proprio sul filo di lana hanno il secondo miglior tempo ma è il pilota della ducati ad andare al q2 per 69 millesimi perché praticamente prima alice spargarò gli ha portato via il secondo posto a jack miller che non si è trovato con le gomme probabilmente l'ultimo giro non l'ha neanche fatto l'ha abortito come si può dire ma dopo che è passato alice spargarò subito dopo è passato zarco e lo ha battuto a sua volta per 69 millesimi quindi al q2 ci vanno paul e spargarò e appunto zarco e il fratellino di alice spargarò se ne sta cucucu appena dietro i primi in quinta fila tredicesimo andiamo a vedere quindi quali sono i magnifici dodici che si giocheranno la pool position morbidelli nakagami quartararò vignales alice marquez le cuona rins olivera craclo mir paul e spargarò e zarco che arrivano appunto dal q1 dopo i primi tentativi è incredibilmente nakagami ad avere il miglior tempo seguito vicinissimo da morbidelli quindi zarco quartararò e poi tutti gli altri ma adesso vi faccio la classifica provvisoria di questo q2 dopo naturalmente i primi sette minuti più o meno quando manca ancora un paio di tentativi per intenderci piloti sono andati in bosca abbiano la moto le gomme e rientrano per fare gli altri tentativi quindi dopo il primo tentativi primi due tentativi diciamo così abbiamo nakagami primo morbidelli secondo zarco terzo quartararò quarto rins quinto quartararò quarto è fantastico rins quinto craclo sesto vignales settimo le cuona ottavo nono libera decimo pole spargarò undicesimo marquez dodicesimo mir inizia la seconda parte nakagami è ancora più scatenato di prima perché migliora ulteriormente il suo tempo di altri 190 millesimi scusate non 199 190 millesimi e adesso deve solo attendere l'ultimo giro degli altri piloti ancora in pista ma teoricamente prima fila ipotecata probabilmente alla fine direi meritatamente pole position per il giapponese nakagami davanti a un morbidelli da libidine coi fiocchi quindi rins vignales zarco e quartararò poi si sa in gara vengono fuori gli altarini griglia di partenza di questo gran premio teruel aragona 2 per intenderci o aragon 2 visto che si è corso già qua la settimana scorsa abbiamo nakagami morbidelli rins in prima fila vignales zarco e quartararò in seconda fila pole spargarò craccio e le cuona in terza fila olivera ales marquez e mir in quarta a lei se spargarò miller e binder in quinta bradel dovizioso ahimè e bagnaia ahimè due volte in sesta e infine petrucci rabà e smith in settima e ultima fila vedremo oggi perché ormai siamo già domenica come andrà la garettina staremo a vedere qua è un bel dilemmone certo morbidelli in seconda in prima fila di fianco a nakagami e rins magari zitti zitti cacchio cacchio morbidelli e rins vanno in fuga e poi bisogna vedere il vignale se fa come al solito il diesel quindi per 12 giri dorme poi si sveglia dall'ottava posto nono decimo che si prova a recuperare o se appunto resta a dormire e poi abbiamo un quartararo sesto che vorrà vendicarsi dalla settimana scorsa che ahimè è stato un pianto un pianto greco veramente nel vero senso della parola adesso non ricordo se era la settimana scorsa o forse due settimane fa che quartararo era lì 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 poi piano piano è uscito addirittura dalla zona punti il mondiale tutto aperto ci sono quattro piloti nei primi posti ci sarà sicuramente da divertirsi d'altronde la moto gp adesso che il povero mar marquez deve mettersi a posto sto benedetto gomito come si suol dire quando il gattone non c'è i topolini ballano e qua alla festa della topolini dei topolini non della topa magari alla festa dei topolini si sono iscritti in tanti perché ce ne sono ben quattro che ambiscono a vincere questo mondiale anomalo anomalo perché gara è tutta in Europa 12 13 ce ne sono poche rispetto alle 20 22 di una volta e quindi andrà come andrà speriamo poi con l'anno nuovo di poter riavere la moto gp all over dappertutto ovunque in australia e in thailandia e in cina e in giappone eccetera 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 in america comunque ragazzoli io vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao